Amici di Pupia, ci troviamo fuori al cimitero del Cricignano, dove è successo una cosa veramente strana. Risulta che è stato rubato l'altare in una cappella. Raccogliamo qualche informazione. Il pavimento è stato rubato, non adesso però, un tempo va dietro, adesso hanno rubato l'altare, hanno preso tutto il qua, non più quello che hanno rotto che quello che hanno preso. E voi quando ve ne siete accorti? Stamattina? Stamattina quando sono venuto ad aprire ci stava il cangello aperto, scarrotto, con il lucretto rotto e si era aperto. Entro su qualche macchina per portarsi la roba. Quindi si pensi che sia un atto di vandalismo? No, no, questa è una cosa mirata secondo me perché sono stati presi degli oggetti specifici. Questo è la cappella madre, altra parte, dove ci sta l'altare, sempre sull'altare. Quindi per colpire qualcuno questo punto? Ma secondo me quello del pavimento si è potuto finire di fare la cappella. È l'unica cosa che... Ha completato l'opera quindi? Ha completato l'opera. Si vede, guarda, è tutto rotto, hanno preso, qua di fronte, vedi? Ci stava un marmo intero, guarda, è stato rotto intorno, il marmo, quelli là, questi, questo qua di fronte, qua era tutto marmo. Marmo di un certo valore, credo, a livello di antico, vedi com'è? Com'è fatto? Perché hanno rimasto solo i pezzettini, vedi? Questi qua che non servivano. Ci stava il Cristo là sopra, hanno rotto tutto. Hanno rotto proprio... Un grande danno quindi? Un grande danno culturale, non lo so, è antico più che altro. Perché poi guarda, non l'hanno finito di portare via perché si è rotto, sia di qua che dall'altra parte. Non vedo niente di... perché hanno toccato solo le due cappelle. Non hanno preso niente, diciamo, che so, roba di ottone, di rame, niente proprio. Solo queste qua, solo le due cappelle. Vabbè. Hanno rotto la serratura e in più ci stava la catena con un lucchetto che l'hanno spezzato. L'hanno portato pure la catena. Io sono rotato, alle sono uscite. Possiamo notare là. Sì. Perché qua, siccome c'è una perdita l'altra, ma dove si è venuto più l'altra? La stessa cosa dall'altra parte. Hanno preso l'urna dove si mettevano le comunioni, quando facevano le comunioni, e tutto il marmo intorno, vedi? che è stato preso. Quello là sopra, l'hanno trovato proprio la rinca in Lucchiezza. Cioè, è una cosa che ho mirato, quello per... Non mi dà, perché non ha niente di valore, diciamo. Vedi, hanno buttato tutto a terra per togliere quel pezzo sopra. Le volte non le hanno aperte per vedere altre cose. Solo, specifico, nelle due altari. Quella è la roba di sopra, vedi che è caduta. Poi qua hanno tentato, guarda, questi topoletti, vedi? Vedi? Hanno tentato, ma sono fuorissimi qua. E poi hanno desistito. Si rompeva, se non aveva, perché va, tutto rotto. Allora hanno capito che era inutile, era inutile toglierlo, quindi, tanto si rompeva. Perché comunque hanno tentato, la stessa cosa è questa parola, però non lo voglio me toccare. Quindi io volevo prendere questi qua. Tutto là... Hanno visto che si rompeva? E quindi hanno desistito. Che allora si è cominciato a rompere. E questo è fatto. Cioè, il rischio che cadeva tutto? Sì, quindi... No, si rompeva, guarda. Hanno tentato, vedi? E si è rotto. Allora, rompendoci, hanno desistito. E quindi ci lasciamo perdere. E hanno rimasto... No, ci sono la musica. La... Che non si mette per... Per dare la musica. E per il momento è tutto. Chiudiamo qui il nostro servizio. Pupi, ha la tua informazione. La musica. Qui si mette per la musica. La musica. La musica.